No, no, è stato tolto dal mercato a gennaio, lui si è messo la testa in pace di rimanere in Italia, casomai è più facile che si rinnova un contratto che che va in Brasile. Siete un ritorno di Ibra in Italia da escludere al 100%? Credo di sì. E le voci che lui vorrebbe addirittura tagliare l'ingaggio per la nostalgia che ha dell'Italia? Ti fanno sorridere? Mi fanno sorridere perché lui non parla mai di ingaggio, lui gioca a calcio, io parlo di ingaggio. Io non parlo di... Ma cosa interesserà anche lui? No, non interesserà lui. È un migliore responsabilità, lui non ha mai parlato di ingaggio, non ha mai parlato di stipendi. De goede weg, denk jij? Ja, io non vedo di ingaggio. Iedereen può sempre in una organizazione di più meglio. Ma non è possibile che è sempre più facile, non credo. E che è anche la scuola che in l'anno che sono arrivati in l'anno, in quel momento in cui è stato così difficile. E' un po' di più facile, e' un po' di più semplice. E' un po' di più facile, non c'è di giugno che ci sono speciale con un po' di domani. E' un po' di più facile. Spelers alla prima? Spelers a proo le di, man non pare. Abersenspil это solo, non c'è ancora il giù in Italia. D'verso qu'il sia stato già但是 anche qui revenir. and move out of England from Manchester City and going back to Liverpool was a fantastic opportunity because Liverpool is one of the biggest clubs in the world and I think that Mario has to adapt and I think that Liverpool has to adapt to say ok this is not Luis Suarez we need to change our game in a certain way. We've understood that this coach wants something from him that he will try to give and then we will see to move on. I think that Mario will win this struggle. I'm positive that he will and becomes a better football player than he was and after that it's up to Brendan Rodgers to give him his chance. I am happy because I think he is one of the biggest clubs in the world where he is a great player and the club has all the confidence in him. It's just something to be happy. It's a very surrealistic thing because we don't know why. It's surrealistic. People also know that something is happening very, very, very strange. Because at the end of the day, if it all doesn't work well, Zlatan doesn't work well, and it may be that Villa in the next year it doesn't work well. Where is the front end of the guard that you want? You have to build one, biomechanical, mind. ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti